Luigi Ocari, Presidente di Astronautica, qui c'è parte dello staff, voi siete impegnati da subito per aiutare Sergio e la sua famiglia. Sì, abbiamo cercato di essere subito vicini alla famiglia e la cosa bella adesso che avendo istituito questo fondo sono la risposta a parte degli imperiesi di tante persone c'è stata, del mondo di vele d'epoca anche, soprattutto del nostro major sponsor che ha dato un significativo contributo all'attività del fondo e appunto adesso poi il collegio dei provviviri che giustamente da parte di Astronautica ha preso in gestione tutte le attività direttamente con la famiglia racconterà un po' quello che sta accadendo. Io continuo a sensibilizzare tutti quanti perché veramente è un brutto incidente che poteva capitare a ognuno di noi e quindi sentire che Imperia e il mondo delle vele d'epoca è vicino alla famiglia di Sergio veramente significa voler far parte di una comunità che guarda al suo futuro con la speranza veramente di dare a tutti quanti la possibilità di ritrovarsi anche dopo incidenti di questo tipo. Ecco, Nardo Garibu avete già raccolto cifre abbastanza importanti. Dunque, intanto dobbiamo dire che fare un ringraziamento a tutti quelli che finora hanno contribuito e sono tantissimi e in particolar modo dobbiamo ringraziare quelli che hanno dato un contributo un po' più consistente ricordiamo le officine Panerai, ricordiamo la Go Imperia, l'associazione Lo Sbarco dei Pirati e l'associazione Il Fornello che hanno dato un contributo molto consistente e così tutti gli altri. Massimo Rogero quindi è una raccolta che va avanti, un impegno che continua? Un impegno che continua e soprattutto abbiamo avvisato in questo impegno il problema diciamo non in via di soluzione ma chiaramente gestito dalla medicina del papà ma soprattutto il problema della bambina il problema della bambina che deve crescere e che deve avere un aiuto di qui alla maggiore età e quindi il grande impegno di questo fondo sarà anche cercare di portare avanti un'assistenza continua e continuativa nell'ambito della bambina perché diciamo che è il futuro, è questa bambina quindi questa bambina si ritrova senza papà perché ad oggi e non si sa quando sarà senza papà e quindi sicuramente ha bisogno di tutto quello che sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dell'affetto dell'essere aiutata moralmente e quindi noi cercheremo in tutti i modi di portare avanti questo fondo anche per lei. Indubbiamente le vere d'epoca sono un avvenimento molto importante per l'Imperia è un avvenimento che è sentito come si dimostra dalla raccolta che è stata fatta in favore di quello che è stato ferito all'occhio e si prevede, pensiamo di fare anche qualche regata velica intestata a questo nome e con la partecipazione dei concorrenti contribuire a questo fondo che va discretamente bene.